Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la terza maglia del Rivel Plate per la stagione in corso, la nuova, la 2023, in edizione FAN. La nuova, la nuova, la nuova. La maglia è bellissima e questa squadra è dotata di una grandissima tradizione e fascino, quindi nella mia classifica prende 4 stelle, veramente fatta molto bene con dei dettagli spettacolari. Il costo lo vedete qui sopra, estremamente basso, non mi stancherò mai di dirlo, però decidete voi cosa fare. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Allora andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale, prima però vi chiedo di darci un grande like, ma soprattutto di iscrivervi al canale. A voi non costa niente, ma a noi ci permette di darvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao! 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 Grazie a tutti